Era una giornata come tante altre, quella del 22 giugno 1983, quando Emanuela Orlandi, una ragazza di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, uscì dalla scuola di musica dove aveva appena finito la sua lezione di flauto. Non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto la luce del sole, la sua famiglia, i suoi amici. Non sapeva che il suo destino era già segnato da forze oscure e potenti, che avevano deciso di farla sparire nel nulla. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Emanuela non era una ragazza qualunque. Era una cittadina del Vaticano, il più piccolo stato del mondo, ma anche il più influente e misterioso. Il Vaticano, sede della Chiesa Cattolica, custode dei segreti di Dio e della storia dell'umanità. Il Vaticano, teatro di intrighi, scandali, complotti e attentati. Il Vaticano, crocevia di interessi politici, economici e criminali. Emanuela era scomparsa proprio nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano. Chi l'aveva rapita? E perché? Qual era il movente dietro il suo sequestro? E soprattutto, cosa le era successo in questi 40 anni? Queste sono le domande che si pongono da decenni i familiari di Emanuela, i giornalisti, gli investigatori, i magistrati e i semplici cittadini che hanno seguito il caso con apprensione e indignazione. Queste sono le domande che restano senza risposta, nonostante le innumerevoli piste seguite, le testimonianze raccolte, le indagini svolte. Il caso di Emanuela Orlandi è uno dei più grandi misteri risolti della storia italiana. Un mistero che nasconde una verità scomoda e inconfessabile. Una verità che coinvolge il Vaticano e i suoi segreti. Una verità che mette in discussione la fede e la morale dei credenti. La verità è che Emanuela Orlandi non è stata rapita per caso. Emanuela Orlandi è stata rapita per un motivo ben preciso, per ricattare il Papa. Sì, avete capito bene. Il Papa. Giovanni Paolo II. Il Papa Santo. Il Papa amato da milioni di fedeli in tutto il mondo. Il Papa che ha sfidato il comunismo e ha contribuito alla caduta del muro di Berlino. Il Papa che ha subito un attentato nel 1981 da parte di Aliagia. Un terrorista turco legato alla loggia massonica P2 e ai servizi segreti bulgari. Ma chi voleva ricattare il Papa? E cosa voleva da lui? La risposta è semplice. La Banda della Magliana. La più potente organizzazione criminale romana degli anni 70 e 80. La Banda della Magliana era composta da una trentina di malavitosi che controllavano il traffico di droga, le estorsioni, le rapine e gli omicidi nella capitale. Ma non solo. La Banda della Magliana aveva anche rapporti con la politica, la massoneria, i servizi segreti e il Vaticano. La Banda della Magliana aveva infatti stretto un patto con il cardinale Paul Marcinkus, presidente dell'OIOR, l'Istituto per le Opere di Religione, meglio noto come la Banca del Vaticano. L'OIOR era coinvolto in una serie di operazioni finanziarie illecite e fraudolente, che avevano portato al fallimento del Banco Ambrosiano e al suicidio del suo presidente Roberto Calvi, trovato impiccato sotto il Ponte dei Frati a Londra nel 1982. Il cardinale Marcinkus aveva affidato alla Banda della Magliana il compito di recuperare i soldi spariti nelle casse dell'OIOR e di eliminare eventuali testimoni scomodi. In cambio, la Banda della Magliana aveva ottenuto la protezione del Vaticano e la possibilità di usare l'OIOR come banca per il riciclaggio dei proventi illeciti. Ma il patto si era rotto quando il capo della Banda della Magliana, Enrico De Pedis, detto Renatino, aveva deciso di alzare il tiro e di chiedere al Papa qualcosa di più. Qualcosa che il Papa non poteva concedere. Qualcosa che riguardava il segreto più grande e più pericoloso del Vaticano. Il terzo segreto di Fatima Il terzo segreto di Fatima è una profezia rivelata dalla Madonna e i tre pastorelli di Fatima, in Portogallo, nel 1917. Il segreto è stato consegnato al Vaticano nel 1957 e da allora è stato custodito gelosamente dai papi, che ne hanno rivelato solo una parte nel 2000, affermando che si trattava della predizione dell'attentato a Giovanni Paolo II. Ma la verità è che il terzo segreto di Fatima non era solo quello. Il terzo segreto di Fatima conteneva anche una rivelazione sconvolgente, la fine dei tempi, l'Apocalisse, il giudizio finale. Una rivelazione che avrebbe scosso le fondamenta della Chiesa e della fede cristiana. Ecco cosa voleva De Pedis, il terzo segreto di Fatima. Ecco perché aveva rapito Emanuela Orlandi, per costringere il Papa a rivelarglielo. Ecco perché aveva fatto sapere al Vaticano che la ragazza era ancora viva e che l'avrebbe restituita solo in cambio del segreto. Ma il Papa non si era piegato al ricatto. Il Papa aveva preferito tacere e sacrificare Emanuela Orlandi. Il Papa aveva scelto di salvare la Chiesa e non la vita di una ragazza innocente. Questa è la verità che il Vaticano ha sempre nascosto. Questa è la verità che i familiari di Emanuela Orlandi hanno sempre cercato. Questa è la verità che noi vogliamo farvi conoscere. Nel luglio 2019, la famiglia Orlandi ricevette una segnalazione anonima che indicava due tombe nel cimitero teutonico, adiacente al Vaticano, come il possibile luogo di sepoltura di Emanuela. La segnalazione era accompagnata da una foto di un angelo scolpito e dalla scritta «Riposa in pace». La famiglia chiese al Vaticano di aprire le tombe, sperando di trovare finalmente una risposta al mistero che durava da 36 anni. Il 11 luglio 2019, il Vaticano acconsentì alla richiesta e fece esumare i resti contenuti nelle due tombe, che appartenevano a due principesse tedesche morte nel XIX secolo. Ma la sorpresa fu grande. Le tombe erano vuote. Non c'era traccia né delle principesse né di Emanuela. Il Vaticano dichiarò di non sapere spiegare il motivo dell'assenza dei resti e ipotizzò che fossero stati spostati in occasione di lavori di ristrutturazione del cimitero. La famiglia Orlandi non si arrese e chiese di estendere le ricerche ad altre aree del cimitero, dove erano stati rinvenuti dei frammenti ossei durante gli scavi. Il 20 luglio 2019, il Vaticano consegnò alla famiglia due ossa trovate in un deposito sotto il pavimento della Pontificia Accademia Teutonica, vicino al cimitero. Le ossa furono sottoposte a un esame del DNA per verificare se appartenevano a Emanuela. Il 3 settembre 2019, il risultato dell'esame fu reso noto, le ossa non erano di Emanuela. Erano invece di due persone diverse, una donna e un uomo, vissuti tra i lì e il III secolo dici. Si trattava quindi di resti antichi, forse provenienti da una necropoli romana situata sotto il Vaticano. La famiglia Orlandi rimase ancora una volta delusa e ammareggiata. Il caso di Emanuela sembrava non avere fine. La speranza di ritrovare il suo corpo si affievoliva sempre più. Ma la voglia di verità e giustizia rimaneva intatta. La famiglia continuò a chiedere al Vaticano e alle autorità italiane di fare luce sulla scomparsa della ragazza e di individuare i responsabili. Continuò a credere che prima o poi la verità sarebbe emersa. Con questo si conclude il nostro video sul caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata. Una storia che ci ha fatto riflettere su quanto sia importante cercare la verità e non arrendersi mai alla menzogna e all'ingiustizia. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla famiglia Orlandi, che da 40 anni lotta per sapere cosa sia successo a Emanuela e per avere giustizia. Speriamo che un giorno possano avere le risposte che meritano e che possano riabbracciare la loro cara Emanuela. Vi ringraziamo per aver seguito il nostro canale, dove vi raccontiamo le storie più incredibili ma vere che il Vaticano e la Chiesa vi hanno sempre nascosto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i prossimi video, dove vi sveleremo altri segreti Inconfessabili del Vaticano. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.